Un percorso di 5 km lungo il litorale siracusano che si è concluso alla tonnara di Santa Panagia. Si è svolta così la terza edizione della giornata del digiuno tecnologico, che ha visto capofila gli alunni del triennio del liceo scientifico russo Giusti e del tecnico industriale Ferraris della sede di Belpasso dell'istituto Francesco Redi. Rigorosamente con i cellulari offline i ragazzi sono stati immersi in un'osi incontaminata. Il primo impatto può sempre essere tosto, però poi ci si abitua e si sta bene. Ci vuole proprio staccarsi dai social, staccarsi da internet, da tutto. E viverci noi ci vuole, quindi è stato bello. Alla giornata del digiuno tecnologico 2023 hanno partecipato anche gli studenti del Marconi e del Gemmellaro di Catania, delle Inaudi di Siracusa e del Medi di Randazzo. I ragazzi dell'istituto belpassese si sono cimentati nell'utilizzo del braille. Su tre cartelloni hanno inciso alcune frasi di Archimede, che i coetanei delle altre scuole hanno studiato e tradotto. Siamo riuniti tutti davanti alla nostra scuola per partire e fare strada verso Siracusa. Arrivati abbiamo iniziato a camminare. Abbiamo fatto tutto il percorso prestabilito, ovviamente senza l'uso di tecnologie, e comunque di connessione alla rete internet, i telefoni, i tablet, solo per foto e video, così da poter avere un ricordo di quel giorno fantastico. Siamo stati tutti insieme, abbiamo riso, scherzato, abbiamo parlato di tutto. Per il rete abbiamo ritrovato quell'intimità che non si trovava più, dato l'uso dei telefoni costante. All'iniziativa hanno partecipato anche gli studenti del Liceo Amari e dell'Istituto Comprensivo Calì di Lingua Glossa e dell'Istituto Comprensivo di Amicis di Randazzo, che hanno percorso il sentiero La Trainara Lingua Glossese. Ed è fondamentale che i ragazzi capiscano quanto è importante stare insieme, abbracciarsi gli occhi, la parte visiva, è fondamentale. E quindi per noi è stato questo, cioè l'obiettivo nostro è stato questo, far capire ai ragazzi le diversità di comunicazione. La stessa cosa è il discorso del braille, che hanno giocato col braille. Il braille è anche integrazione, far capire che anche una persona non vedente può essere integrata e stare insieme con tutti gli altri.